Ricordo storia futuro, comune e regione ancora una volta insieme per l'evento dedicato alla giornata della memoria, aperto alle scolaresche cittadine, ad ospitarlo all'auditorium del parco per commemorare le vittime della Shoah, occasione per riflettere e sensibilizzare le giovani generazioni. Il centro di produzione Spazio Rimediato ha portato sul palco letture e interpretazioni sul tema, letture a tre voci con Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Luca Centi Pizzutilli, accompagnati dalla violoncellista Flavia Massimo, presenti il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, il sottosegretario Bergamotto, l'assessore regionale Pietro Quaresimale, gli assessori comunali Arsilia Lancia e Manuela Tursini, l'ufficio scolastico regionale con il direttore Massimiliano Nardocci e soprattutto Ruth Durghello, presidente della comunità ebraica di Roma, a portare agli studenti la sua preziosa testimonianza. È fondamentale il presidio sulla memoria ed è altrettanto importante lavorare sui giovani, in un periodo in cui purtroppo per fatti anagrafici, testimoni che hanno vissuto l'esperienza dei campi di sterminio, ci stanno lasciando e non potranno più con il loro racconto empatico far sentire quel freddo e quella terribile pagina ai ragazzi, spetta a noi portare invece questo messaggio avanti per costruire quegli anticorpi rispetto a fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo che si palesano sempre di più nella società. Non possiamo permettere che questi divengano quasi normali, che assumono i connotati di una tolleranza o di un'abitudine, ma invece questi ragazzi devono conoscere a cosa può portare quell'odio e quell'indifferenza perché a loro spetterà di guidare il paese nel futuro. Chiaro, le scuole sono i principali protagonisti di questa serie di celebrazioni, di iniziative celebrative, di ricordo di questa immane tragedia e di educazione alle nuove generazioni perché una formazione diversa produca risultati migliori per il futuro rispetto a quelle e alle tragedie che abbiamo vissuto nel passato.